Sud Chiama Nord farà parte anche di questa tornata elettorale. Nel programma più ampio anche a livello nazionale c'è scritto non in termini di rivendicazione, ma per quale motivo allora? Noi vogliamo una stagione nuova, perché l'Italia che noi viviamo non ci piace. Vogliamo una stagione fatta di meritocrazia, di una politica concreta, una politica pragmatica. Noi abbiamo un'attenzione mirata ai territori, vogliamo che chi nasce qui nel sud Italia abbia le stesse identiche opportunità di chi nasce nei territori più sviluppati, quel centro Italia vuoi il nord Italia. Non vogliamo più queste finanziarie lacrime e sangue, vogliamo che lo Stato sia più equo, che i nostri territori vengano i distinti con un federalismo buono. Noi vogliamo arrivare a una macro-regione del sud Italia, vogliamo che effettivamente i territori abbiano una rappresentanza molto più forte, possano autogestirsi, quindi basta con queste leggi di bilancio lacrime e sangue, lo vediamo nella nostra regione, vogliono toglierci per esempio sul profilo giudiziario i tribunali, li vogliono chiudere, questo è inaccettabile. I nostri giovani li dobbiamo tenere sul territorio, devono rimanere con noi. I nostri giovani laureati, siamo la generazione più preparata della storia dell'umanità, devono rimanere sul territorio abruzzese. Questa logica tutta nostra, tutta questa malattia abruzzese, che le aree interne devono contrapporsi alla costa, i servizi devono essere concentrati dove vivono più persone, è sbagliato. Il decreto Lorenzin va abolito. Noi dobbiamo andare avanti sulla sanità, dobbiamo fare l'asl unica, sul fronte della sanità dobbiamo immediatamente riorganizzarci, togliere i costi che non servono, metterli sulle risorse umane, noi ci interessa che il cittadino va in ospedale e trova il medico. A livello più politico dove vi collocate? Non abbiamo scelto di equalizzarci con i solidi contenitori, basta posizioni ideologiche, una politica pragmatica. Noi vogliamo il presidenzialismo, vogliamo uno Stato snello, vogliamo che i provvedimenti dal Parlamento arrivino sul territorio in maniera snella e veloce, 8.000 comuni in Italia non ce li possiamo più permettere, 303 comuni in Abruzzo uguali, noi dobbiamo arrivare a smuovere il paese, a renderlo molto più snello e molto più agile.